Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Oggi un ospite eccezionale, straordinario e iconico, una leggenda del motociclismo italiano. Sto parlando di un campione del mondo, il campione del mondo del 1982, Franco Oncini. Ciao Franco. Ciao a tutti quanti. Benvenuto a Crazy Motor Life e grazie per aver accettato il nostro invito. Mio piacere, grazie. Franco abbiamo tante cose di cui farti parlare, quindi vado direttamente al succo. Però tutto questo dopo la sigla. Franco Oncini nasce a Civitanova Marche nel 1955. Ma quando nasce il Franco Oncini motociclista? Eh, quello però non nasce a Civitanova Marche, perché io sono nato a Civitanova Marche, ma non ci ho vissuto tanto. Da Civitanova Marche ho fatto un passaggio a Castelfi d'Ardo, poi sono venuto a Recanati all'età di 5 anni e mezzo, 6. Quindi sono nativo di Civitanova, ma recanatese da sempre. E la mia formazione motociclista è nata a 14 anni. Anzi, a dire il vero, anche a 13 anni. Perché mio fratello, che è più grande di me di due anni, quando aveva 14 anni è riuscito a convincere il nostro padre a fargli comprare il motorino. E da lì, siccome avevamo una band, perché io ero un batterista, mio fratello era un chitarrista, poi a un certo punto, mentre così ci divertivamo a fare le prove con questa band, vedo che a un certo punto mio fratello non veniva più. Se era così innamorato di questo motorino, che ormai, diciamo, la chitarra, la band, così l'aveva un po' abbandonata. Mi sono incuriosito, dico, ma come mai? E da lì, a 13 anni, ho cominciato a imparare ad andare sul suo motorino. E qualche volta, quando potevo, io lo rubavo e andavo in giro con il suo motorino a 13 anni. E da lì ho capito quello che era il custo di... Ti senti autosufficiente, ti senti autonomo, ti diverti un mondo, puoi andare dove vuoi, non dipendi più da nessuno. Poi, ovviamente, mi è piaciuta così tanto che mi incominciavo a divertire. Ovviamente, da lì, poi, le preparazioni, no? Perché il motorino, non dovrei dirlo, ma da 50 è diventato 60 centimetri cubi, con una preparazione che a quel tempo si chiamava Simonini, con tutto sabbiato, testa e cilindri sabbiati, scarico con le espansioni, i due esempi, ovviamente, le espansioni, eccetera. Per cui da lì sono partito. Ma quella vocina interiore, vediamola come, o angioletto come diavoletto, ognuno la veda come vuole, che ti dice, passa alle gare. Quando nasce e perché? Questa te la devo raccontare perché è molto carina. Quindi mi hai fatto una domanda che vedrai che ti divertirà. Sarà un po' lunga, però te la racconto. Allora, chiaramente, cosa succede? Che poi, quando tu a 14 anni hai questo motorino, te ne innamori. Ma io andavo in giro anche d'inverno. A me il freddo non mi interessava, anche se io sono uno che ama molto il caldo, per cui pioveva, nevicava, sempre in giro con il motorino. Per cui la passione aumentava sempre di più. Poi, quando ho 15 anni, a un certo punto mi ricordo che trovai su una rivista che, se non smaglio, era motociclismo di quel tempo, dove c'era una proposta di legge per avere la patente a 15 anni. E io, guarda, ritaglio quella specie di patente che sembrava quasi reale. Poi ci attacco le foto, faccio scrivere a macchina, Franco, un C, tutto quanto, eh? E poi la faccio vedere a mio padre e gli dico, ah, papi, sai che io adesso posso già guidare il 125? E l'abbiamo comprato proprio in Svizzera, la Honda 125, bicilindrica, col motorino e avviamento. Penso che era il CB 125. E quindi, già io a 15 anni e mezzo andavo in giro con questo 125, ma siamo andati anche in Zagabria, perché mi ricordo, sì, c'era ancora Zagabria, con la nave. Siamo andati, mio padre e mia madre con la macchina, io e mio fratello con le moto. Io c'avevo l'onda 125 e mio fratello c'aveva uno Sport Special Moto B. Ma 15 anni e mezzo, fortunatamente nessuno ci ha chiesto la patente o non hanno fatto nessun controllo. Comunque siamo andati. Poi cosa succede? Mio padre non vedeva l'ora che facevo i 18 anni per farmi chiudere con le moto, perché lui aveva paura quando io andavo in moto. Per cui a un certo punto, man mano che si avvicina i 18 anni, lui mi proponeva una macchina. Mi diceva, Franco, quando c'è i 18 anni, basta con le moto, ecco, magari che compriamo. Siamo arrivati anche alla Giulietta, alla Duetto 1300 Junior, cioè macchinine che oggi fanno ridere, ma a quel tempo era un non plus ultra. Io invece, dopo tutti questi anni, volevo solo correre. Mi ero ormai appassionato di corse. E sai, in giro, quando ti incontravi con gli amici e sfidavi un po' sulla strada agli amici, insomma, il più delle volte io ero il più competitivo. La notte ci divertivamo a illuminare una curva, magari perché ci fermavamo tutti in una curva, perché con i cavalletti sfusciavamo tutta la curva facendo scintille e ci divertivamo un mondo. Per cui è stato un periodo molto, molto grande. Quindi, quando poi arrivano i 18 anni, io, disperato, perché mio padre, insomma, voleva assolutamente che abbandonavo con le moto, riesco a convincere mia madre e mio fratello a convincere mio padre a comprarmi la moto. E alla fine lui si decide. Mi dice, va bene, ok. Però non toccare nessuna delle vetture della famiglia. Tu andrai in giro in moto anche d'inverno, se nevica. Ha tentato di tutto in tutte le maniere per farmi... Io volevo già comprarne un Laverda SFC, perché? Perché pensavo alle moto di serie. Le moto che andavano in giro sulla strada e volendo con la stessa moto poi andare a fare la gara la domenica. Alla fine lo convincono e mio padre si convince di questo Laverda SFC. Andiamo dal concessionario, qui a Macerata, un concessionario che è una concessionaria Laverda. Andiamo lì e diciamo, guarda, vogliamo Laverda SFC, tutti i dati, tutte le cose. Ok, dice, guarda, fra una settimana vi chiamo e vi dico, se venite qua venite a vedere o a ritirare quello che sto avendo. Invece dopo una settimana lui ci chiama e dice, guarda, dovete venire perché c'è un problema. Porca miseria, che succede? Va bene, andiamo con mio padre e dice, guarda, purtroppo la Laverda ha deciso di fare una nuova versione dell'SFC che uscirà l'anno prossimo, il 74. Quindi il modello precedente, il 72, nel 73 non lo producono più. Mi dispiace, ma non ci producono questo SFC. È appena uscita, bellissima, la 1000 tre cilindri. Dice, perché non prendi quella? E io, che chiaramente ero invece solo per le gare, perché a me mi interessava solo l'SFC per andare a correre, non mi interessava il 1000 per la strada. e gli cominciò a dire, ma no, non mi piace perché 1000, guarda, due posti, invece con l'SFC vado da solo. Insomma, alla fine questo Nardi, al mio rifiuto di cambiare la 750 SFC con la 1000, a un certo punto ha detto, va, io provo ancora. Ha convinto la Laverda a creare la mia moto con i pezzi di ricambio che avevano. Tant'è vero che la mia Laverda, che è lì in Svizzera, è da voi, sono venuto anche a visitarla. Questa Laverda SFC, se dici di con quel numero di telaio, non esiste nel registro storico. E da lì però non si poteva parlare di corse, perché sennò il passo era troppo grande. Diciamo, la Laverda è arrivata, mi credo più o meno maggio del 73, quindi mi sono divertito un mondo. Pensa che avevamo un'azienda qui a Recanati, dove seguiva mia mamma, quell'azienda, poi d'estate mia mamma si trasferiva a Porto Recanati per stare proprio al mare e lei magari ci andava molto meno. Io dicevo, no, no, guarda, non ti preoccupare, ci vado io, solo per farmi la strada, a Recanati e a Porto Recanati costruito la Laverda SFC che mi direttivo un mondo. Poi cosa è successo? Che in febbraio agosto del 73 siamo usciti con diversi amici, mi ricordo eravamo in sette ed era un traffico bestiale perché puoi immaginare a Ferragosto poi andavamo al Monte Conero che è un posto che sembra una pista veramente tortuosa, bellissima. Una meraviglia quella zona lì per girare in moto. E all'uscita di una curva, all'entrata di Sirono, c'era il traffico bloccato, il primo è passato, il secondo è passato, il terzo si è messo attraverso, ha piantato, quindi non c'era più spazio e gli altri siamo andati tutti contro. E mi hanno portato in ospedale con probabilmente un buco qua dietro il braccio, perdevo sangue così. E da lì ne ho approfittato perché avevo già incontrato Mario Ciamberlini, il mio meccanico storico che mi ha sempre seguito, che era uno che andava bene in moto e anzi a suo tempo aveva anche fatto qualche gara. Quando siamo usciti insieme e mi ha visto come andavo mi ha detto Franco, se ti vuoi bene è meglio che corri perché così sulla strada è meglio che non ci vai. E allora da lì ormai eravamo partiti basta, voglio iniziare a correre, voglio iniziare a correre. Allora dopo questo incidente mio padre ha detto senti, ci ho pensato bene, io ora preferisco girare in moto solo in pista, non voglio farle gare, per carità, però voglio solo girare in pista, dico che non c'è nessuno, tutti belli tranquilli. E siamo cominciati ad andare a Misano con Mario Ciamberlini che è già diventato il mio meccanico già a quel tempo, per cui era lui che mi curava questo SFC e i tempi erano molto promettenti i tempi che facevo. Poi tra le tante volte che siamo andati a girare ho convinto anche mio padre e mia madre a venire a Misano a vedermi, no? E poi tu capisci che il sabato e la domenica c'erano solo persone comuni, non è che c'erano piloti fortissimi, no? E io ero chiaramente molto più veloce di tutti quanti, quelli che erano lì presenti, e mio padre un pochino si è un po' ringalluzzito. Da lì il passo a convincerlo a fare la prima gara non è stato facile, ma alla fine siamo riusciti sempre con l'aiuto di mia mamma e il mio fratello in primis, che poi è quello che mi ha seguito per tutto il resto, siamo riusciti a convincerlo a fare una gara, solo una gara. E la prima gara era il 14 aprile 74 a Vallelunga e pensa che siamo partiti la gara, sono andato addirittura in testa dopo pochi giri e dopo un po' però poi ti spiego il problema tecnico, il mio freno ha incominciato a cedere, il freno anteriore e quindi il secondo mi ha passato, poi mi ha passato il terzo, insomma alla fine so. Sono salito però prima gara della mia vita, terzo sul podio e praticamente lì il mio padre si è un po' addolcito, l'abbiamo avuto in mano ecco, il motivo tecnico che ti raccontavo prima era perché in effetti siccome nella preparazione della moto io non avevo soldi a disposizione per la preparazione e quando mio meccanico Mario mi disse Franco i freni sono da cambiare dobbiamo arrivare con i freni nuovi erano i freni a tamburo su quella vecchia la versione 72 a quel tempo il ricambio dei freni 100 anni costava 45.000 lire ma nel 73 era un'enormità per me scoprì che in Ancona c'era uno che ricopriva i ferrodi dei freni con 2.000 lire io facevo la rigenerazione di tutti i freni ho detto mica sono stupido faccio questo da 2.000 lire e questa è stata se no magari sarebbe andata anche meglio del terzo posto quella gara passiamo dal 1974 all'esordio nel mondiale nel 1976 praticamente a due anni di distanza come avviene questo esordio nel 76 perché avviene questo esordio nel 76 guarda inizialmente ovviamente ho iniziato con le gare qui in Italia poi dopo ho avuto l'opportunità di essere chiamato dalla DM di Ravenna che poi era quella con cui aveva corso anche Johnny Cecotto negli anni 74 75 quindi con la DM perché io feci una gara mondiale con la mia privata a Salisburgo chiaramente eravamo impreparati e la mia prima gara del moto mondiale in una pista che non conoscevo eccetera io ho accettato questo invito e abbiamo fatto l'esordio al Mugello e la mia prima gara al Mugello è stata il secondo una gara purtroppo funestata da due gravissimi incidenti Tordi e Buscherini in due situazioni diverse ma quel weekend lì abbiamo avuto due incidenti mortali però io feci il secondo dietro Gianni Cecotto quindi un esordio eccellente nel mondiale ovviamente perché come dici tu due anni prima titubante nelle gare di campionato italiano due anni dopo il secondo dietro Gianni Cecotto che era il campionato del mondo sia in 250 che in 350 devo dire gli anni più belli per quanto mi riguarda rimangono il 1979 e il 1980 perché tu da pilota privato con una Suzuki privatissima ti presenti al moto mondiale nella classe 500 che ricordiamo la classe regina e ti posizioni al quarto e al quinto posto della classifica mondiale piloti diventando il privato più veloce praticamente del mondo ma la domanda è un po' sibillina magari possiamo dire così quanto gusto provava Franconcini a mettersi i piloti ufficiali dietro pazzesco davvero godevo come mai perché in effetti posso farti anche una confidenza ci erano dei sorpassi che mi domandavo se riuscivo o no a farli quando ci riuscivo faccio mi davo i bacini dentro sotto il casco e dicevo bravo Franco un po' vergognoso però è quello lo dico bellissimo una libidina una cosa meravigliosa cioè aver finito quinto il primo anno della 500 e quarto il secondo mettendo dietro tanti piloti ufficiali è stata una cosa fantastica e ti dico poco meno di quello del territorio mondiale dell'82 una gioia un gusto incredibile è stato quello del 79 80 ovviamente anche quello dell'82 ma fantastico fantastico siamo divertiti un mondo io mio fratello Mario Ciamberlini poi tra l'altro il team era un team familiare perché c'era addirittura mia mamma che cucinava per i meccanici i meccanici erano di qui ricanati eravamo tutti più privato non ci poteva essere Franco volevo arrivarci dopo però prendo il tuo là per farti raccontare una differenza tu hai avuto la fortuna di vivere degli anni straordinari del motociclismo legati alle due tempi che ancora oggi fanno venire la pella ed oca a chi come me li ha vissuti è l'avvento della tecnologia l'avvento del nuovo modo di lavorare che differenza c'è tra il paddock di allora e il paddock di oggi ma è molto 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 diverso non ha quasi niente a che vedere tranne che ci sono i camion che trasportano le moto le moto e i piloti che girano diverso perché io non incolpo niente non è che io dico che ogni cosa è del suo periodo quindi tutto si adatta a seconda delle esigenze e a seconda delle necessità però noi avevamo un modo di vivere molto tempo insieme tra piloti nel senso ci scambiavamo tante idee opinioni avevamo un modo di frequentarci di vederci di girare qualche volta di mangiare assieme eccetera oggi non lo possono fare anche perché in effetti gli impegni sono tanto così intensi che praticamente c'è sempre una persona attorno al pilota che dice attento adesso devi fare questo attento adesso si va a fare quest'altro appena terminano le prove fanno minimo un'ora un'ora e mezza di riunioni per capire tutte le varie problematiche a quel tempo era così una cosa più come va la moto dico sì va bene magari secondo me se accorciamo la quarta per la curva a 5 per me è meglio perché magari esco più forte riesco a fare l'altra curva durava 15 minuti il colloquio con i meccanici dopo le prove al più tardi oggi un'ora un'ora e mezza cioè fai fatica a vedere il pilota un'ora dopo le prove un'ora e mezza dopo le prove ancora non esce dal box è un po' più stressante sicuramente il nostro era molto più divertente come periodo però meno pesante oggi oggi è difficile sicuramente alla fine ti dico la verità il vero rapporto tra piloti è alle safety commission tu sai che noi il venerdì parlo noi ma io ho smesso l'anno scorso questa attività di FM safety office ma io in qualità di direttore dell'FM safety commission tutti i piloti venivano da noi al venerdì alle 5 e mezzo 6 dipende dalle necessità televisive eccetera e da lì decidevamo quelle che erano le problematiche del circuito da dove risolvere per il futuro per l'anno prossimo per quello che era la necessità momentanea insomma l'unico momento dove tutti i piloti o i piloti si trovavano insieme era quello lì perché sennò gli altri momenti ma neanche si vedevano si vedevano in pista ma sennò raramente vedi i piloti insieme che si parlano si scambiano tre parole cinque parole ma non vanno la sera a cena insieme da qualche parte mentre la ciliegina sulla torta per quanto riguarda la tua carriera motociclistica arriva nel 1982 che bello franco io prima però di farti parlare del 1982 c'è una frase che viene ripetuta spesso sia nelle tue interviste che negli articoli e nelle cose dove tu rispondi così ad un'affermazione la moto deve essere guidata non spezzata in due perché dici questo ai dirigenti di Suzuki no 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 guarda erano i giornalisti perché io non ho mai fatto gran preparazione per le gare quindi era uno che schivava un pochino la preparazione atletica anche se oggi ti devo dire con le moto che pesano 167 kg contro i 115 che pesava la mia ma non solo la mia aveva 125 cavalli oggi c'erano 300 cavalli per cui oggi sarebbe impossibile quello che facevo io una volta ma io a quel tempo praticamente facevo poco o niente di preparazione atletica mentre c'era Virginia Ferrari che una volta si costruì un motorhome in questa costruzione divise metà palestra e l'altra metà dormitorio allora sai i giornalisti incuriositi che Virginia Ferrari faceva tutta questa preparazione atletica era sempre preparatissimo attento a tutto alla dieta come mangiava anzi prima di questo motorhome prendeva l'albergo a una distanza di 6-7 km perché almeno la mattina arrivava facendo footing insomma mi diceva Franco com'è possibile che questo fa così mi è venuto spontaneo e io ho detto ma la moto si guida mica si spezza non ci vuole tanta forza se rompe la moto e mi è venuta così capirai loro si sono divertiti un mondo e il giorno dopo sui titoli sulla gazzetta dello sport Corriere dello sport è appunto questo titolo qui la moto del seguitato ma no spezzata esattamente questo qui questo è quello che fu questa frase che ancora dura nel tempo perché ancora me la ricordano qualche volta incontro qualcuno nel paddock e dicevo allora è quella cosa e dicono oggi no però oggi è diverso oggi sarei io preparato come loro quindi possiamo darla come Rata Corridge si si assolutamente e non lo diceste ai dirigenti Suzuki per avere la moto ufficiale moto ufficiale che arriva nel 1982 con la quale ti sottolini semplicemente il tuo valore in campo nulla di nuovo sotto il sole ma Franconcini avendo una moto e un team alle spalle ufficiale ne consegue il titolo mondiale titolo non mondiale che non sei riuscito a ripetere negli anni ma a causa dell'incidente o a causa di un passaggio tecnico di Suzuki perché Suzuki l'anno dopo presenta una moto che non era più uguale a quella che vinse i due titoli consecutivi perché ricordiamoci nell'81 vinse con Lucchinelli e nell'82 vinse con te nell'83 invece presenta una moto che a quanto pare non aveva nulla a che fare con la precedente esattamente devo fare anche un altro appunto che è storico della Suzuki perché se guardi la storia della Suzuki vince nell'81 e stranamente nell'82 tanto è vero che quella moto lì dell'82 non era tanto diversa da quella dell'81 diciamo di base perché loro rivoluzionano molto ma se tu guardi la storia 81-82 poi la rivince nel 92 mi sembra Kevin Svans tra l'altro vinto perché gliel'ha regalato Wayne Rainey che c'è avuto l'incidente a Misano comunque 82-92 poi 2001 con Kenny Roberts quindi quasi decennale perché purtroppo a quel tempo la Suzuki voleva sempre rivoluzionare tutto quando aveva qualcosa di buono comunque non gli interessava di continuare su quella linea ma volerano sperimentare qualcosa di nuovo però devo dire un'altra cosa anche a difesa della Suzuki che avevano un collaudatore che si chiamava Kawasaki ed era fantastico la moto quando arrivava dal Giappone e la metteva in pista era un gioiello la Yamaha che era in grosse difficoltà agli anni 80-81-82 a un certo punto è riuscita a soffiare alla Suzuki questo collaudatore e questo collaudatore è andato a lavorare per la Yamaha da noi è venuto un nuovo collaudatore allora ti spiego un attimo come funzionano i progetti la mia Suzuki era XR45 X sta per cilindri 4 cilindri in quadro R Racing 45 è il numero di progetto gli ingegneri portano avanti un'idea un'innovazione un progetto e mettono sul tavolo questo progetto lo studiano lo guardano decidono o lo scartano o dicono sì a quel punto lì costruiscono da questo progetto un prototipo questo prototipo viene utilizzato da il collaudatore è il collaudatore che dà il sì o no alla continuazione al progetto e questo nostro ex tester che era Kawasaki era passato a Yamaha e sicuramente quel progetto dell'83 l'avrebbe scartato ne sono sicuro e invece questo nuovo collaudatore ha dato l'ok per un progetto e quando siamo andati a girare in Sudafrica a gennaio dell'83 ci siamo sia io che Loris Reggiani ma anche Randy Mamor ci siamo resi conto che era uno schifo una moto inguidabile una moto era un disastro ma già di base quindi non era una questione di messa a punto io ho tentato di provare a convincerli di rispolverare quella dell'82 ho detto anche se non vinciamo però non facciamo queste figuracce sicuramente va siamo ancora competitivi sicuramente se non vinciamo siamo lì comunque con i primi e invece è andata così poi l'incidente non ha nulla a che vedere né con la moto anche se devo dire questo motore aveva un scorgimento tecnico che si chiamava power valve che serviva per praticamente dare più potenza a questo motore era un po' più scorbutica la moto e questo qui insomma ha causato diverse cadute quella poteva anche essere una delle tante cadute poi è andata male perché sono stato investito da Wayne Gartner però per quanto riguarda le prestazioni della Suzuki l'83 avevano sbagliato proprio il progetto è stato un errore un errore più dovuto dal collaudatore che dai progettisti Franco prima di passare alla tua seconda vita nell'ambito delle corse e nell'ambito del moto mondiale quello dedicato alla sicurezza per quanto riguarda la safety commission l'IRTA la FIM quando pensi a quel titolo mondiale 1982 e pensi a tu papà che non ti voleva neanche mettere su una moto per evitare incidenti per evitare di farti male cosa passa nella testa di Franconcini quando mette assieme queste due cose che ricordi nascono in te ma guarda delle volte ti domandi anche se veramente stai vivendo una vita o stai ancora sognando perché sono momenti straordinari momenti bellissimi episodi che boh dici come mai ho avuto così tanta fortuna a vivere questa vita perché è una vita meravigliosa quella che ho vissuto fino ad oggi sono molto felice di averla vissuta e anche di potermela ricordare perché tra l'altro ho avuto anche un'ulteriore fortuna che oltre a quello che non ho avuto gravissimi incidenti sono qui ancora ricordi abbiamo festeggiato i 40 anni del titolo mondiale 82 qui a Reganati ad agosto dell'anno scorso per cui veramente una meraviglia in tutto questo percorso che abbiamo fatto sino ad ora si sottolinea sempre una parola che racchiude in realtà un mondo tu parli sempre di famiglia quanto è stata importante averla vicina molto io ho avuto la mia famiglia molto vicina mio fratello è stato sempre presente il mio braccio destro mio padre il mio consigliere era lui quello che leggeva i contratti quello che guardava però non è stato mai invadente non è stato mai presente presente fisicamente ma non disturbando ho creato una squadra appunto quegli anni di cui parlavamo 70 anni 80 era un team familiare un team di famiglia che come dicevo mio fratello che faceva il manager mia mamma che faceva la cucina gli amici che facevano i meccanici per cui era un ambiente familiare per me è stato molto importante sempre anche l'83 alla fine l'83 quando dopo l'incidente dovevo iniziare a correre dovevo scegliere avevo qualche possibilità di andare altrove però alla fine ho detto no preferisco scegliere il team gallina che è la mia famiglia perché mi sento ancora a mio agio quindi sì per me la famiglia è una cosa importante lo è anche tuttora devo dirti la verità ho questa fortuna di avere una famiglia vivo con loro e per me è una cosa di riferimento bello mi piace far passare anche questo tipo di messaggi perché è importante ricordare quanto le persone che ci stanno vicino ci possono dar forza anche a superare i momenti difficili anzi a risorgere da quelle genere come l'araba fenice risorge ancora più forti sono assolutamente d'accordo franconcini risorge sempre nell'ambito del moto mondiale ma dando particolarmente importanza alla sicurezza diciamo a scanso di equivoci non ti viene dato dalla dorna o da qualcuno ma ti designano i piloti come loro portavoce cosa porta franconcini nel moto mondiale come idee innovative e quanta responsabilità ti sentivi ogni volta che qualcuno si faceva male in circuito poiché tu eri responsabile perché anche questo è un tema che viene forse troppo spesso tralasciato assolutamente vero guarda quello che stai dicendo allora io sono stato chiamato in effetti dai piloti già nel 92 Loris Reggiani insieme a Kevin Svance Wayne Rainey e qualcun altro si ricordavano di quando io correvo già a 79 80 e 81 ed ero già il rappresentante dei piloti per la sicurezza perché appunto come dicevi tu avevo questa unione con tutti i piloti e mi hanno incaricato come rappresentante dei piloti e il 93 92 proprio Loris Reggiani con a fianco Kevin Svance e Wayne Rainey mi chiamò per dire mi franco potresti fare per noi il rappresentante dei piloti perché qua stanno crescendo tanto le cose in maniera esponenziale dice ma la sicurezza nessuno ne parla nessuno gli interessa e io ho detto guarda io veramente ho una richiesta da falappa per gestire steam superbike per quest'anno però in effetti ancora non ho avuto risposta dalla Ducati che a questo tempo gestivano i fratelli Castiglioni se loro mi confermano le richieste io devo accettare se no morale a favola la Ducati invece mi ha dato sì e quindi io ho gestito il superbike io ho detto a Reggiani e a Tricogallo voi comunque partite quest'anno anno prossimo ci sentiamo vediamo quello che succede poi loro sono partiti con Didier Radigues che però ha preso un po' la cosa un po' più per gioco arrivava la mattina alle 10 in pista girava pochissimo tra i piloti alla fine a settembre del 92 i piloti mi richiamano sempre la Reggiani mi dice guarda Franco noi con Didier Radigues sicuramente chiudiamo quest'anno per l'anno prossimo vorremmo sapere da te se sei intenzionato a seguirci dico guarda io veramente dobbiamo ancora terminare la stagione stiamo vincendo il mondiale probabilmente si però sai ancora non è matematicamente certo che vinciamo il mondiale Morale Raffaolo abbiamo vinto il mondiale fine ottobre in Nuova Zelanda e poi sono andato subito a parlare con i fratelli Castiglioni per il proseguio del del 93 ma alla fine vedo che mi davano molto meno aiuto tecnico che avevo ricevuto il 92 allora ho detto guarda sono stato bene mi sono divertito ho fatto un anno in superbike ho vinto il mondiale grazie arrivederci sono sceso in macchina ho telefonato all'Arazo Reggiani e da lì siamo partiti con quest'operazione e quindi io dal 93 sono diventato rappresentante tanti piloti poi appena sono entrato la IRTA ecco qui magari ne approfitto perché hai mostrato la foto con Carmelo Espeleta ma devo dirti che Carmelo Espeleta è stata la persona chiave di tutto questo meccanismo perché in effetti quando io sono entrato lì come quasi sindacalista perché alla fine ero il pilota che andava a difendere la voce dei piloti Carmelo mi disse ma scusami Franco ma lavora per noi lavora al nostro interno ti nominiamo IRTA rider safety delegate e sei all'interno ma io guarda se volete far questo parlatene con i piloti perché lui ha detto guarda Franco che per noi il bene più importante di questo sport sono i piloti che tu aiuti i piloti a non farsi male è il nostro obiettivo è il nostro target per cui li ho riuniti io ho detto preferisco non esserci i piloti hanno accettato questa richiesta da Carmelo e poi anche dall'IRTA affinché io mi spostassi da associazione piloti a IRTA safety delegate ho iniziato subito con aumentare la quantità di airfence inizialmente abbiamo avuto un supporto anche da Dainese che ci ha donato una decina di airfence che io posizionavo di volta in volta in posizioni un po' anomale ho collaborato con la federazione affinché si preoccupasse della sicurezza dei piloti e tutto è nato da questa cosa qui e io per 20 anni ho fatto il IRTA rider safety delegate cioè ero al fianco del FIM safety officer e io suggerivo quello che lui doveva richiedere ufficialmente perché chi dà l'omologazione al circuito è la federazione poi quando lui si è ritirato dieci anni fa mi hanno chiesto a me di prendere il suo posto e quindi io questi ultimi dieci anni sono diventato FIM safety officer e sono io quindi quello che rappresentavo i piloti ma nel tempo stesso omologava ti dico la verità in tutti questi anni non è stato facile perché devi accettare compromessi sai quando il pilota ti dice Franco alla curva 5 lo spazio di fuga è troppo poco dobbiamo aumentare di più e io magari mi metto lì a fare i calcoli per poter essere tranquilli dobbiamo aumentare di dieci metri facevi la richiesta ai circuiti e il circuito dice guarda lì dietro c'è una chiesa faccio un esempio non possiamo mica buttare giù una chiesa per aumentare quello spazio di fuga dove cercare i compromessi magari facevi le protezioni oppure insomma alla fine è stata un po' complicata non è stata così semplice come poteva sembrare Franco vinci il titolo mondiale come team manager con Ducati Ducati con la quale tu hai uno stretto rapporto perché prima del tuo esordio nel 1976 nel mondiale tu hai corso con Ducati nel 74 nel 75 tra l'altro nel 75 vincendo praticamente tutto quello che c'era da vincere sì è vero sono stato un uomo Ducati oltre che l'Aveta certo l'esordio è stato l'Aveta ma sono stato un uomo Ducati perché a quel tempo Spaggiari che era un ex pilota Ducati mi propose di correre con la Ducati a 750 SS e in effetti abbiamo fatto sette gare io ne ho 25 una mentre ero in testa stupidamente mi sono sbadato eccetera e sono caduto e un'altra devo dire la verità mi hanno pregato Spaggiari a quel tempo di arrivare il secondo dietro al mio compagno di squadra perché io praticamente avevo demolito moralmente il mio compagno di squadra che era Giulio Sabatini un ragazzo stupendo bravissimo e molto forte perché quando io sono entrato il primo anno con il L'Aveta era lui l'uomo da battere era lui con il numero uno ed era molto molto forte poi io con il Ducati mi sono trovato così bene che alla fine questo Sabatini è andato in crisi e allora Bruno Spaggiari mi ricordo mi chiese guarda Franco se questa gara qui tu sei primo e lui è secondo ti faccio un segnale se puoi farlo e io gli davo valore sì e no l'ho fatto vincere ma in effetti devo dirti la verità mi sento pentito perché vedi adesso mi dà fastidio dirti questo e non poterti dire mi ho vinto 6 su 7 uno ho fatto una cappella e sono caduto tornassi indietro non lo farei mai tant'è vero che poi nel 77 successe anche a Bruno che me l'ho chiesto sulla linea partenza Harley Davidson a Hermacchi se potevo far vincere Walter Villa non ci pensate neanche perché poi eravamo in lotta io Walter Villa e Mario Lega per il titolo mondiale 250 e allora a quel punto lì io ero ancora matematicamente dentro la possibilità di vincere il mondiale e dico no no io non faccio vincere nessuno se posso vinco io perché voglio vincere voglio tentare di vincere il mondiale fino in ultimo quando non ci sono più possibilità per me di vincere il titolo mondiale possiamo parlare ma ora non ci penso neanche tu passi il testimone nella classe regina 500 ad un altro italiano uno che ha fatto un po' la storia di questo motosport ah sì aspetta fammi vedere ah sì Valentino Rossi un grande che vuoi dire che possiamo dire di questo personaggio è sempre stato un grande lo è tuttora ci ha veramente fatto divertire per tanti anni assolutamente com'era entrare in self commission e avere Valentino Rossi che ti fa delle richieste è una persona che pretende pretende molto però sa dove si può arrivare o dove non si può arrivare se lì non è possibile io gli spiegavo i motivi per cui non era possibile farlo non c'è stato nessun problema è stato sempre molto elastico nelle cose di notte insonni ne ho avute tante dico la verità Franconcini nasce nel 55 fa l'esordio nelle gare nel 74 74-75 vince praticamente tutto quello che può vincere tutto quello che c'è da vincere non tutto quello che può vincere nel 76 debutta nel mondiale 79 e 80 gare fantastiche da team privato 82 arriva il mondiale poi safety commission IRTA responsabile FIM team manager per la super bike oggi Franconcini come passa le sue giornate cosa fa? allora oggi possiamo dire che chiudo l'anno con 2023 è il primo anno che non sono attivo al 100% come lo ero prima ho fatto qualche gara come FIM Stuart Appeal cioè lo Stuart degli appelli me l'hanno proposto anche per l'anno prossimo ma ho raggiunto un accordo con una società che è la SLEA questa società disegna circuiti e anche modifiche ai vari circuiti per cui sono diventato consulente di questa società una società piccolina che chiaramente sta crescendo e io la sto aiutando quindi per me una novità una pensavo che sarei voluto rimanere più a tempo inattivo ma ho visto che già un anno basta avanza nel ringraziarti di esserti raccontato così senza filtri in maniera genuina Crazy Motor Life ma prima di salutarti ti volevo chiedere un tuo pensiero da dedicare a tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo delle due ruote e che o non trovano il coraggio o non trovano la forza o hanno quella titubanza quella paura cosa puoi dire per farli avvicinare a questo straordinario mondo del motosport la cosa importante è andare in pista non certamente divertirsi sulla strada perché sulla strada il divertimento deve essere una passeggiata un giro all'aria aperta mentre per chi vuole divertirsi con una moto deve andare assolutamente in pista per poter provare questa sensazione poi ovviamente bisogna credere in se stessi avere la forza di fare quello che uno si sente di fare e quando si è tranquilli quando si è sereni le cose vengono sempre molto meglio di quando uno le cerca a tutti i costi quindi questo è il messaggio che vorrei dare quello di stare sempre molto sereni quando sei in moto perché se c'è sempre questa ricerca e questa volontà di ottenere o volere qualche cosa è sempre più difficile ottenerla Franco grazie auguri di buone feste perché ormai siamo in prossimità del nuovo anno che il nuovo anno possa portare a te a questo nuovo sogno al nuovo Franconcini che possa portare tante novità e tante soddisfazioni sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano ti ringrazio in bocca al lupo a Crazy Motor Life grazie per questa intervista è stato un piacere buone feste a tutte quante ovviamente questa è una buona occasione grazie grazie ciao Franco ciao ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti